ciao a tutti ragazzi piccola notizia flash oggi è il 26 settembre è l'anniversario della scomparsa di sergio bonelli e la casa elettrice che porta il suo nome ha deciso di rendergli omaggio di ricordarlo con questa questa iniziativa digitale sulla bonelli app che che altri non è che una raccolta che si chiama firmato nolitta abbiamo a partire da oggi una raccolta di opere a firma guido nolitta firma sergio bonelli sapete che guido nolitta era l'alter ego di penna di sergio bonelli abbiamo quindi tex 183 caccia all'uomo 184 mingo il ribelle 185 il giudice maddox poi zagor 87 alba tragica 88 odissia americana 89 in anemia infernale apro chiudo parentesi questa è una delle mie storie preferite e è una di quelle autografiche io mi sono fatto autografare da lui quindi ci tengo particolarmente poi abbiamo il ribelle 1 il ribelle il ribelle 2 la sconfitta il ragazzo nel far west 1 un ragazzo nel far west il giudice bin numero 1 furia apache mister no 76 la mafia non perdona mister no 77 morire a capri mister no 78 paura nei caraibi speciale mister no numero 8 fuga da skynet con la partecipazione anche di martin di martin misteri in questo caso niente ragazzi buona lettura buona lettura tutto questo lo trovate all'interno della vostra digital app mi raccomando niente questa notizia flash per per ricordarvi che l'app è tuttora attiva funzionante e serve anche per queste cose per ricordare un grande come sergio bonelli nel giorno della sua dell'anniversario della sua scomparsa ciao a tutti 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 ciao a tutti